Spoltore e Martinsicuro si affrontano per la diciannovesima giornata del campionato regionale di eccellenza. I padroni di casa cercano quella vittoria che manca dalla tredicesima giornata, quando si imposero per 5-0 sull'Acqua e Sapone. Si comincia nel ricordo di Matteo Menchini, il giovane 37enne spoltorese ex presidente del Real Teresa scomparso al termine di una lunga malattia. Sblocca la gara lo spoltore al terzo minuto con un gran tiro di Simone Bordoni dai 20 metri su cui Cannella non può far nulla. Al tredicesimo ci prova Dipentima ma la sua conclusione viene respinto dall'ottimo estremo difensore ospite. Nuovamente Cannella a respingere l'ennesima conclusione di Filippo Dipentima al sedicesimo minuto. Passano appena 5 minuti e Titi Sanz lancia splendidamente il suo connazionale Alberto Calbanes che si fa ipnotizzare da Cannella. 26esimo minuto cost to cost di Dipentima che mette in aree un bel pallone su cui si avventa Franco in scivolata che con un braccio tocca la sfera. Per il direttore di gara il signor Alessio Speziale all'esordio nel campionato di eccellenza non ci sono dubbi e decreta il calcio di rigore. Dal dischetto si incarica della buttuta Capitano Daniele Di Camillo che fa il bis. Spoltore 2 Martinsicuro 0. E al trentasesimo arriva il tris di Titi Sanz che con uno splendido pallonetto dopo un servizio di Aldo Pompa. E al trentottesimo arriva anche la quarta marcatura. Splendido il lancio di Simone Bordoni per Alberto Calbanes tiro di prima intenzione e palla all'angoletto. Allo scadere sempre lui Simone Bordoni firma il 5 a 0. Non cambia il canovaccio nella ripresa. All'ottavo minuto arriva la sesta marcatura. Caldo l'asse spagnolo Sanz Cabanes con quest'ultimo che sigla la sua doppietta personale. E al quattordicesimo arriva il settimo sigillo siglato dal neoentrato Nicolas Sborgia. Al trentottesimo Cabanes spara addosso al portiere. Sempre lo spagnolo al quarantaduesimo si fa respingere l'ultimo tentativo dei padroni di casa. Termina così la gara con la netta vittoria per 7 a 0 dei padroni di casa. Mister Guido Di Fabio, dopo le buone prestazioni nelle precedenti occasioni, oggi purtroppo è arrivata questa pesante sconfitta. È vero, è brutto prendere sette gol. Però dai, ci può stare perché è una squadra molto giovane. Abbiamo commesso degli errori oggi nei primi gol e poi diciamo che si sono un po' demoralizzati. Una squadra giovane ci sta, non dovrebbe accadere. Lorenzo Sichetti, classe 2001, centrale difensivo dello Spoltore, anche oggi uno dei migliori in campo. È un onore giocare questa maglia, è sempre bello aiutare la squadra ad arrivare nelle zone più alte della classifica.